Pioggia di proposte per Susan Boyle, rivelazione del programma Britain's Got Talent. Secondo quanto scrive Sun, la bruttina scozzese dalla voce d'Angelo è letteralmente sommersa da offerte di lavoro dagli States. Tra queste spicca una sua partecipazione alla serie Ugly Betty, il telefilm interpretato da America Ferrara. La quarantotenne ex-sacrestana di Blackburn, come già hanno fatto altre star del calibro di Victoria Beckham e Naomi Campbell, dovrebbe interpretare se stessa in una puntata. La nuova carriera della Boyle, che i fan hanno ribattezzato Sue Bow, aveva avuto una battuta di arresto dopo il suo ricovero in una clinica provocato dallo stress per lo show televisivo e l'eccessiva attenzione mediatica nei suoi confronti. Una fonte ha riferito al tabloid britannico che Susan ha molte offerte sul tavolo ma che al momento sta lavorando per incidere il suo album. Grazie. 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 Grazie.